Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Adrix Eh io sono Digeret, già mi conoscete, che mica devo dire pure no? Eh vabbè dai, per chi non ti conosce, chi vede per prima volta questo video Ah ciao, sono Eric, vengo smesso di fumare da più o meno due mesi Bravo Non mi drogo più, però trovo un po' come un cinghiale Passiamo alla parte più presa di questo video Allora questa è una challenge, si chiama Scioglilingua Challenge Allora noi abbiamo preso da internet degli scioglilingua ormai abbastanza famosi Che più o meno conoscono tutti E adesso ne diremo alcuni Il bello di questa challenge è che non dobbiamo dirgli piano Dobbiamo cercare di dirgli velocemente Se uno di noi due si impappina, che non riesce più a dirgli fluidi Va diciamo in errore Se non si così è già perso in partenza Va in errore, no? C'è una penitenza C'è una penitenza Chi non riesce, chi sbaglia a leggere questi Per tre volte No, la prima volta che sbagli Devi leggerlo di fila per segno Sì, ho capito Ma qua ci sono 36 cose Ho capito Di aceto ce n'è abbastanza Ma vangu E chi sbaglia praticamente verrà penalizzato con un cucchiaino Abbiamo scelto un cucchiaino di aceto Perché l'aceto fa schifo di per sé Mamma mia E abbiamo del latte giusto poi per camuffare Per non vomitare Ecco appunto Non so se è facile Ma io ancora non ho Dato che è una cosa così fatta al momento Ma io non ho capito Cioè se io sono 36 cose 36 sciolilingua Ma ne scegliamo più o meno che ne so Tipo Diciamo tre o quattro a testa O cinque Bisogna Che ne so I primi cinque li dico io Dal 6 all'11 lo dici tu E vediamo Facciamo una pagina Facciamo una pagina E poi che ce ne dici Dobbiamo solo ricordarci quante volte ho sbagliato Mica Se noi andiamo in una cordosi di aceto Vaffanculo Che schifo Io direi Chi fa tre errori Finisce il giochi alla penitenza Eh ho capito No no Quei tre errori Sono cinque le frasi che devi dire Sì Ma chi sbaglia per tre volte Ci vediamo dopo domani Hai capito Chi sbaglia per tre volte Per tre volte è da sbagliare Allora boh Tu basta che continui a leggere Tu continui Sbagli la prima volta boh Ti devi cominciare Pari o dispari No no Comincia tu Eh si stima Pari o dispari No no Dai pari Pari Sì Pari tuoi Pari tuoi Pari tuoi 3 3 6 Eh vaffanculo cominciò io Ti ho detto io che devi cominciare tu Stupi Che bulla Allora Vabbè il primo andiamo facile Sì ma deve essere fluido Allora Pelle figlio di Apollo Faccio una palla di pelle di Apollo Tutti i pesci venneranno a galla Per vedere la palla di pelle di Apollo Fate la pelle figlio di Apollo Suga Ecco qua adesso andiamo un pochino sul più difficile Stappa l'aceto No 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 Perché poi emanano l'odore Mamma mia Secondo sciolingua Chi seme di senape secca semina sempre seme di senape secca raccoglie Eh dai L'ho detto Però devi andare avanti finché non sbaglia questo Eh sì 188 lire più 555 centesimi Aspetta che mo' Non so che cazzo sto dicendo però va bene così io dico tutte le parole che ci sono qua Quarto giusto? Ma questo è dialetto No 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 sono tutti sciolilingue Sì sì Hai dialetto italiano? Vai vai è italiano vai vai Ma sono cazzi tuo Tito tu mi hai ritinto il tetto ma non ti intendi tanto di tetti ritinti L'interno è più fluido comunque Eh sti cazzi più fluido In un coppo poco cupo poco pepe peste ca Eh dai vaffanculo è un errore vaffanculo Un errore però mica l'ho detto quasi tutto Eh ho capito Ammazza Uno tanto io lo sei mi dai Ehm Io sei? Sì Chiama 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 Chiamami tu che chiami chiami Che cazzo è? Aspetta Eh oggi sei bloccato dai Chiama 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 chiamami tu che chiami chiami Sì e poi Ah c'è anche so Eh già Ah chiamo chiamerò se tu non chiami Eh Potevano farlo eh No tocca a te adesso No E parti da sette io ho già fatto un errore No due perché questo ti sei impappinato Vaffanculo allora Preparo con un bicchiere di latte Brava che schifo l'aceto Il sette Tre secchi secchi No In tre secchi Erano tre secchi Eh sei hai detto secchi Ah Erano tre stecchi Sono tre quindi Sì ma tre Ammazza Faffanculo va Che palle Allora Allora Aspetta Mettiamo già Ma che cazzo stai facendo Hai l'asma E tu non la faccio io Io l'asma Allora Metto già un po' di latte Perché poi so già che Ehm Farà un po' schifo Secondo me il latte e l'aceto Fa ancora più acidità Comunque va bene Io ho detto latte no Tu hai detto O vuoi acqua No Vabbè Lascia Al massimo Ma no ma tanto è giusto Un po' raga Quando metti in diretta Ti faccio più view Ecco Vorrei che va a finire tutto Per terra adesso Ma Che si sente da qua Il fedore Sì oh Entro domani Eh ma aspetta Perché minchia Orca troia Aspetta E sti cazzi però No no però tolgo Ok Oh Sì ma Oh Chiara che schifo E lì è il bicchiere Bevi be Bevi Riesci a bippare nel È tutto rosso Fa una Riesci a bippare nel Cosa Eh Nel montaggio Riesci a bippare Bippare perché È una metà di bipp E' una metà di bippare nel E' una metà di bippare nel E' una metà di bippare nel Dentro lo stomano Che tu manco ti mangi Che schifo adesso tocca a me e tocca a te, vaffanculo, vomita, bevi di mezzo litro di aceto però ricomincio dai primi ricomincio da dove cazzo vuoi ricomincio da quelli che hai fatto tu, perché così la cosa è giusta allora devi partire dall'otto no, dal primo dal primo dal primo è meglio, ormai ti sei già studiato no, che studiati, li hai letti tu, mica li ho letti io allora proviamo avanti a pelle e fili da pollo, fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle e fili di pollo ma ci deve essere una mica una gazzata però ha detto veloce chi semi di semi a passecca semina sempre semi di semi a passecca raccoglie non essere studiati il 3 188 lire più 5,155 centesimi Tito tu mi hai ritinto il tetto, ma non ti intendi tanto di tetti ritinti 5 in un coppo poco cupo poco pepe pesto cape 6 chiama, 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 chiamami tu che chiami, chiami chiamerò se tu non chiami e dove siamo arrivati il 7 quindi devo fare il 7 3 stecchi secchi in 3 strette tasche stanno 8 7 scettici shake sciocchi con la sciatica a Shanghai la ruota rotonda ruotava rovente restando rasente la rete 6 sci senza scienza sei solo scema la matita a mettere la matita a matita in tasca la matita in tasca la matita ma devi se studiare no te lo giuro te lo giuro Ma mica c'è ancora la città che basta in giù Dai, finisco la pagina Numero 12 Chi porta in porto le porte Parte dai porti, porti in porto Le porte aperte 13 Sette asciughette se ne stavano strette e strette Nelle scatolette poverette 14 Sopra un sasso messo stava su se stesso Un sasso stava Nel giardin di frate Andrea Fra Simon Foglion Colliea Nel giardin di frate Simon Frate Andrea Colliea Foglion 16 Foglion cos'era? Foglion, che ne so Poi In via dell'angolo c'era un pizzicagnolo Che aveva un frignolo sul dito mignolo Tre tozzi di pan secco In tre strette tasche stanno L'ultimo Sul mare ci sono nove navi nuove Una delle nove No, non vuole navigare Vabbè, per paracondition Lo bevo anch'io, dai Giusto per farti compagnia Allora, però, raga Ah, io ce l'ho già qua volendo Quello che ho versato prima Mettilo sul cucchiaino Vedi se è un cucchiaino Pensa di sì, dai Sei, più o meno sei Non mi piace Perché? Michele ha detto Facciamola col peperoncino No, eh Tu almeno ti sei abituato Io no Con l'aceto Con l'aceto Con l'assorto pure Però guarda Madonna mia Che sento Lo stomaco E ti dura pure Nonostante bevi latte Acqua Cosa C'è un po' di vino pure No, quello no Ah E non può cantarne Va Va Sì, questa roba C'è un po' di rimbora Ok, ragazzi Spero che questo video Vi abbia piaciuto Spero che questo video Vi abbia piaciuto Vi ha Vi sia piaciuto Vi ha Non capisco più un cazzo No, io Io non posso Cioè Questo sa dire Milione di detti Così che non Si capisce un cazzo E poi Spero che questo video Vi abbia piaciuto E come si dice Diabora Vabbè No, no, no Allora ragazzi Insultatelo nei commenti Per piacere Grazie Comunque speriamo 50 euro Qua in palla Chi lo insulta nei commenti Allora spero che questo video A tanta gente Le è piaciuto Mi sia piaciuto Così si iscrivono Al nostro canale Poi sono io in Napoletano Ok E speriamo che questo video Che dato che è una nuova challenge Che nessuno ha fatto Così se qualcun altro youtuber La vede La vuole fare No? Prende spunto da noi Della verità qualcuno L'ha già fatto Sì, non lo so Non l'ho ancora visto Comunque, vabbè Ripeto Iscrivetevi al canale Seguiteci sui nostri social Dei Tecrocket E ricordo Mamma mia Ricordo che No, no Prossimamente Ci saranno anche Altre video Di luoghi abbandonati Giusto? Allora Questa è una cosa Che abbiamo intenzione Di fare adesso Abbiamo stirato giù Una lista Di un po' Di posti abbandonati Come Aspro Sì Un po' Di posti abbandonati Che ci sono Noi li chiamo qua a Torino Ma Comunque Appunto Perciò Che sono Torinese E nei dintorni Nella provincia Abbiamo tirato giù Questa lista Per andare Un attimino A visitarli E vedere Un po' In che stato sono Dato che In alcuni posti Vabbè Non fate caso Al telefono Ci sono Delle leggende Sopra Leggende Di infestazioni Fantasmi E altre cose Quindi Ci fa piacere Sia a noi Andare a visitare Quei posti E noi Vi porteremo Vi porteremo Anche con noi Filmando Il tutto Sperando che Succeda qualcosa Di interessante Che magari Da potermi far vedere Da poter Alzare un attimino Il contenuto Del video E niente Boh Vediamo Un attimino Solo di organizzarci E fare queste cose Nel frattempo Usciranno altri video Altre challenge Altre stronzate Che dimegra in mente A quest'altro Nel frattempo Io vi saluto Un salutone Da DJ Red Un bacio a tutti Vi voglio bene Un saluto anche Da Idris E ci vediamo Al prossimo video E ricordatevi Di iscrivervi Ciao belli Ciao 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 a tutti Ciao a tutti